I carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Francesco Manna, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Salerno nei confronti di un cittadino marocchino di 29 anni con domicilio ad Eboli, Rida la Abadi, con pendenze penali ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione, detenzione e porta abusivo di armi. L'indagato, dopo essersi introdotto in un'abitazione a Giungano, riusciva a prelevare elettrodomestici, attrezzature del lavoro e nove armi, tra fucile e pistole, custoditi in una cassaforte. Grazie all'indagine dei carabinieri di Capaccio Scalo, si è accertata la presenza di impronte su una finestra che, confrontate con la banca dati, hanno permesso di individuare l'autore del furto.